Buongiorno signora, buongiorno ragazzi siamo sempre, dove siamo? Ma guardate che posto che incantevano la Calabria bella, volevo dire, mi veniva in mente qualche cosa, ti stai dicendo, le voglio fare un omaggio, il nostro grande Mario Gualtiere è l'ultimo regalo che ci ha fatto, lei l'ha ascoltato? Questo è l'ultimo regalo, lo trovo anche fino ad esaurimento, non io, è l'esaurimento quotidiano, vedete l'omenico, dove è il suo marito? È al lavoro, salutiamo il suo marito perché è al lavoro, le moglie si sciagliano nelle mani che lavorano, io lavoro e mia moglie speriamo che va a casa, come si trova affa? Bene, bellissima. Ora gli racconto questo ragazzi che vengo... guarda, guarda, guarda la calabria è un certo? Che cucina? Stati chiedendo mia mamma? Non la farò fare, ma è giovanissima. È giovanissima. Eh no, Lucio mi fa fare queste domande. Lucio mi dice, zio, piedello, non è. Dammi il tappinetto da me. Il tappinetto è come Lucio. Cos'è intanto che mi fa questo? Chi sei lì? Non ciò. Però questa me la voglio raccontare, questa ambaziazza. Non è una ambaziazza, è una cosa vera. Venga, venga. Allora, guarda che gioventù ragazzi, che è meraviglioso. Venga, venga, venga. Gioventù del 46. Venga, venga, venga. Di dove sei? Allora, c'è un ubriaco. Vieni qua, vieni qua. C'è un ubriaco, no? Guardate a me. C'è un ubriaco. L'ho mandato un signore. Scusa, dove avete? C'è un ubriaco. 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 Guarda là che scende la gente. Mettete le frene a mano ragazzi. Scendete che c'è gigliotte. Ogni giorno alle 15 sono circa 9 e 19. No, perché che lega le hanno? Bene, dica. E si fa le filanzate. Ma dovremmo fare proprio quel rito magico. Che a chi ci vuole bene, per questo collezio che pensi, a chi ci vuole bene, per questo collezio che pensi, a chi ci vuole bene, per questo collezio che pensi, a chi ci vuole bene, per questo collezio che pensi. a Ruprosi. Non lo facciamo? No, no. Non lo facciamo per bene. Eh sì, facciamolo per bene. Ma chi ci vuole bene? Già, a chi ci vuole male? A Ruprosi. Ciao. Vieni qua, Dorio. Vieni qua, vieni qua. La figura... Un bambino. Complimenti però signora per tutto, per la bellezza e per l'allegra. Io non ci vuole alzare, però non è più. Non l'ha più. Allora, vieni qua, vieni qua. Mi scherza di cosa? Dell'amico... Il quotidiano, tu compri il tuo quotidiano. No, ti rompo. Il quotidiano, si compri il quotidiano, ne diamo una puntata. Il quotidiano si compri, io ti compro un pugno nelle 10 perché ci sono inaspettato. No, guardate il quotidiano. Sei bellissimo. Che cosa deve fare la gente per venire in Calabria? Dillo, fallo tu. Venite qui in Calabria. Perché? La Calabria è bella. È bellissima. È rilucchino. E la paghetta mia. Ragazzi, vieni qua, facciamo un promo però dai. Allora, perché? Perché dovrebbe venire in Calabria la gente? Perché? Che è bello mare. È toio? Il bello mare che è becaissima, che mangiare il piaccia del palermo. Il pesce è buono. Il pesce è buono si mangia il pieno. Il pesce è buono. Il pesce è buono si mangia il pieno. Allora, ragazzi, andiamo, andiamo. Buongiorno e grazie. Allora, ragazzi, ci andiamo da questa parte. Non lo stiamo venendo, sono rispetto? No, l'abbiamo finito, il quotidiano. L'abbiamo finito? Perché sei così? Perché sei così? Anzi, no, ti diamo una cosa, dai. Tu vuoi venire a Cosenza? Cosa è che c'è da? Cosa è che c'è? Carlo Quinto, Pizze Nobile Cornette. No, non ci vedi. Ah, no, guarda la pizza. E che vuole mangiare? Vuole mangiare? Vuole mangiare, sì. Sì, si fa te dire. Ma niente toltato, niente toltato. Niente toltato, davvero? Giuro, giuro, giuro. Non è tutto niente. Eh, adesso... Giuro, no, no, giuro. Mo' me la tu a me, non ha capito? Me la tu a me. Ma che ne vuole quello che vuole? Me la tu a me. 10 metri. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Ma che meraviglia, voglio un bello. Grazie. Allora, ciao ragazzi. Guarda là che spazio. Guarda che meraviglia là, ragazzi. Viva la calabria. È un moco. Guarda, guarda, guarda l'alancione. Dammi che devo dare un bello, ma signora. Dammi qua. Ciao, ma signora. Buongiorno. Come sta? Si può alzare un momentino questa bella giovingetta? Guarda qua che vedo, guarda qua che vedo. Si, si. Benedicca, si. Benedicca. Chi cavabria vedo, vedo bene. Oh, non sei che no. Ah, grazie. Guarda che grazie. Ah, il matrone di Regno, il matrone di Cosenza, che è benedianco. La famiglia reina. Di salute, il mio braccio. Rappacca. Allora, come guarda, come guarda la signora, madre. No. Annalta. No, è una signora. Che cosa? Una moca? Una mica? No, no. No, una moca. Una moca, mica, mica, moca. Su, basta poco. Ragazzi, arrivi da voi. Guarda che è arrivata il gioventù. Guarda qua, guarda. Non me la peccano, ragazzi. Dormono a questo la cava luce, eh. Perché? Ragazzi, arrivo. Ma, ma c'è il cavolo, è il suo luce. Ma, ad una coppa, può poter esibigliare. Ma, mi cacciano i scarpe. Se tu non ricordi, tu non ricordi. Tu non ricordi. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua. E' una bustura che ci mette con i scarpe, tu non ricordi. Guarda qua. E come la facciamo già la cosa? Tutto abbiamo. Ok, diamo lì. Chi è di Cosenza? Che ne do un po' ancora fare le pizze. Chi è di Cosenza? È il riuscito. Venga, venga, venga. Ragazzi, chiedi cos'è? Aspetta, aspetta che mi caccia la scalfa, metto. Dammi una busta e mettili qui dentro, che ha costato una 15. Coscarello che si manda. Datemi una busta, vedete una busta. Io ho pericato un uomo. E non si sporcano tutto. E poi dite un attimo, che sono poveri, che non riesco come tu. Allora, aspetta, facciamoci vedere, non ci facciamo vedere che ti prendi prima. Parlo quinto. Pizze nobili con me. Pizze meravigliose. Saordinaria. Abbiamo un'acce, non abbiamo. Contrato? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Fa un rignano, tieni. Allora. Come va la bacana? Dove facciamo il bacana? Noi siamo venuti per due ore. Mangiamo una panina. Una panina. Che cosa? Che cosa? Mangiamo una panina. Una panina? Che cosa? Io faccio il berretto. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Non ci vediamo. Dei vieni, mezzo. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Un gioco. Stando all'allora. Ma avete una bustina? Vieni, vieni. Avete una bustina? Che metti all'aera? Io una bustina magari ce l'ho. Ma chiamami a niposa. Ragazzi vieni. Guarda la. Guarda la. Guarda. Guarda la. Ma hai due busti. Secondo me ho iluso, tu usi molto la mano destra, sai? No, perché invece il francesco va più veloce, tu ti fa male, ti ama. La devo usare di me la mano destra, sta sentendo a me. Usa c'è, nel senso che per fare ripresa, capito? Usa la tenisci. Ragazzi! Ragazzi, hai capito, eh? Dimmi, sai che c'è un bambino? Se no, veramente ho... Se mi porti una busta, non finirlo, non cremo più. Va, dai, dammi un grambino. Ragazzi, guarda che bello, guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Come sai Giulia? Brava, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Non sto gastando un pigliato da essere me. Signor, fammi la dai. No, mi serve a voi, non è una bustina. Aspetta, aspetta. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, quando ti ho scopo un dato. Andate là qua. Aspetta, fammela ridare. Che cosa fa? Questa zona è migliorata. Mettila qua, che devo... Che devo... Si. È migliorata questa... Ma la mia... 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 Mi serve? Questo noi facciamo, ragazzi. Bravando. Bere mammo.... A lui... . Quest'anno ha notato, quest'anno ha notato veramente questo... Re posizione cosa d' �è... Re posizione cosa done. In Piazza, io sono 40 anni e qui è il quattro... Scusate, ebbene, alcune cose, andiamo un buggerimento, innanzitutto di là non fanno mai niente, è sempre così. E' l'importante che fanno sassi. Non fanno niente, ma perché? Sono anni, anni che stanno, ma qua ci sono quei sassi, perché li buttano sopra e mettono la sabbia come stanno facendo. E i sassi, poi i casi li mangiano i sassi. E allora, poi un'altra cosa. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Facciamo una cosa. Lo sai che ne si va a mandato la calabria? Tu la va a presto. La signora che imbattizza, la signora. Il mare è pulitissimo. Guarda, guarda su mare. Guarda su mare. Guarda su mare. Vedi qua, ragazzi. Vedi qua. No, no, no. Guarda qui il mare. Com'è il mare, ragazzi? Ci sono. Ma che se si deve mettere d'accordo la politica? Perché, ragazzi, è che la romana è che c'è l'idea. Io qui. Lei di una cosa. Sì. Mettiamoci più qua, che sennò mi state affocando però. Io sono camperista. Lei di dove è lei? Sì. Di cos'è? Allora, io e il mio bambino. Sì. 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 Ma noi ogni... Ma che mare. Ma che mare. Ma che mare. Ma che piglia. Lei me l'ha detto. Perché non parlo del mare pulito? Poi è caro. Il mare pulito, i prezzi sono accessibili. Per cui la famiglia tranquillamente, insomma, qua c'è. Vieni qua. Ami potenziali dolce? Cana poco. E ci sono. E ci sono. però già hanno già iniziato, la Salucide è una bomboniera se tu vai a Cosenza allora ragazzi, ragazzi, ebbè ragazzi, poi ci sono sempre ragazzi 10 euro di sconda al supermercato d'oltre, una caccia di birra e ce la pigli pure la signora, pure la panina, pure la panina di murciatella mi stai leccando, mi stai leccando, ti voglio leccare io, arriva, arriva, senta, ogni tanto mi allecca, ti chissà, invece ero canto di fare qualche doccia, guarda qua, scusa, guarda qua, scusa, stanno giocando, due vieni qua, ma chi sei tu, vedendo, ma come sei, guarda qua, no, non vuole giocare, vengo, capito come ti chiami, Prince? la principessa, di dove sei? Francesco? Sì, saluto il sindaco, tutti con il nostro scalo, stiamo aspettando che come vuoi, perché ho detto, capito, dovevo fare una serata con Giulio Cicciò, la prima data che è uscita in modo serio, ringrazio il sindaco, per Rocco, di Paola, perché potremmo fare questa serata in onore di un grande attore, artista nel mondo, ragazzi, facciamo con Pierfranchesco del mondo, avete fatto un applauso perché state morendo voi, state morendo, perché vi siete applausi per il mannaccio, quindi se volete chiamateci, noi siamo pronti, siamo aspettati, per Rocca, sindaco, nonché amico, ha voluto ricordare questo nostro grande fratello, che fa il testo, il 14 agosto in piazza Paola, vuoi cantare, ballare, recitare, farò l'amore, grigliotti ciò e con voi, grazie per la mattina. E vai, grazie, Giobbino! Allora, dov'è la ragazza? Vieni qua, vieni qua. Giobbino, le docce, la doccia lì devono fare, la doccia, le docce lì fare... In amore, perché è tutto buono, vedi qua. Le docce, le grandi. Portate una bomba. Le docce lì... Tu c'è un viso, sei troppo attaccato, perché? Perché ti voglio bene, ti voglio stare vicino. Grazie, capito, prima che dopo la doccia facciamo... Guardate, io... E noi, noi qualcuno... Ce ne stanno qualcuno lì? Mi aiutati! Di là per le nostre attività. Allora, intanto mi utilizza questo. Con la tua grande... Non l'ho capito. Aspetta. Poi lo vengono... Allora, aspetta. Vedi che c'è la telecamera, vedi? Ah! Allora, senti un po'. Poi... A questo lo dà i nonni... Che potenza non... No, no, è di Milano. È di Milano. È di Milano, è di Milano. Allora, senti un po' di qua. Io il 10 agosto... Ti trovi da queste parti. A Paolo ti faccio scolare. Vedi? Ti faccio scolare. 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 Sì. No, però lo so. Fa anche le capotute, sì. Non lo so. Fa pure pecca, vorrei dire. Vieni qua, tu vieni qua. Vieni qua. Quanti anni hai tu? Cinque anni. Quanti anni hai? Ah, 16. Mi portate i ragazzi con una pesciata nuova. Quando andiamo a scuola, no? E' un po' di qua. Ah, sì, la te la puoi. E' un po' di qua. 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 Ciao, bella di Dio. Sempre a comandare dai genitori. E me le legò. E mi segui, no? Non mi segui? Tu sei qua. Me le prendo dopo, dai. Allora, ragazzi, andiamo da questa parte, se non è giusto. Guardate, è riscignore. E' un po' di qua. Fate un applauso, ragazzi. E' un po' di qua. In Calabria. Lavoro un ginne. Ma pagabono. In Calabria. Lavoro un ginne. Ma figli ne fanno, Benedetta. Giustamente la notte, che ne fanno? Menano e coca. Quanto manca? Vai, vai, c'è ancora. Un po' di qua. Non mi vuoi fare un bamosco. Vieni, 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 vieni. Ma andremo da ragazzi un metro, un metro. Non è buono, no? Allora facciamone quando manca? 10 minuti. 10, non è possibile, non è possibile, 10 minuti. Sto a metà della seconda puntata. Quanto, questa è la seconda? Metà. Buongiorno. Come state? Come stai? Andiamo. Ma che meraviglia, ragazze. Ma tu sei venuto a vedere, capisciamone? Ma ci vediamo la cosa e ci vediamo. C'è una bella ragazza che la conosce, ma che meraviglia. Noi siamo lì ad agosto, signora. E' come fare sposarci, no? E' come glielo voglio, adesso il buono ti devo dare. Si è bagnata la signora, l'ho bagnata la signora. perché mi sono ricordo! E allora.. Guarda qua. Bene lì. Bene lì. Vieni qua, vedete. Vieni qua, vedete. Ragazzi, allora questa ecco perché… Se si comporta bene nella del mondo, poi si ritrova. Lei in una cameria del Mediterraneo alla Mandeia e mi accolto alla grande, parliamo di cose positive, sempre negativi ma non è che se la mi toglia, c'è il calabrese il calabrese mi dice, zio prima come fare esporto arrivo io depolito, però esporto pure, chiamatevi perché non ho provato a esporto ma, mira là, mira là, signora tu sei più veloce che Francesco, Francesco, va come lui Francesco, è più grande Francesco, allora a che faccio bene? allora quando prendi una cosa molto bella, a chi ci vuole bene? a chi ci vuole male? a chi ci vuole male? a chi ci vuole male? mettete un tappesortesto, guardate facciamolo insieme no, no, io no che si vuole male? qui tagliare grego che tagliare grego alla signora la signora è qua lo signora è qua, se la tieni qua se la tieni ti vamos per faviglia ah, no, guarda Vabbè, in totalità voglio prendere. Ce lo può fare però di dietro a chi ci vuole bene, no? Non lo vuole fare. Ma poi ridano, cioè, non vediamo che ridano. Però è meglio che si ridano. Ci vediamo ad agosto. Ciao, bella mia. Ciao, ragazzi. Che c'è di qua? C'è qualcuno di qua? Ciao, grazie di cuore. Ciao, bella mia. Andiamole, andiamole. Vale. Antonio! Che ti vuoi chiamare Luciano? E tu non puoi sapere. Guarda l'atticente. Presa diretta. Se non te la seda andiamo. Non venire più. Vengo, vengo. Mi manda la seda. Ma non è che come è. Siamo venuti, ragazzi. C'è quello che fa. 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 Non ti ne parola? No, ho detto come la... Alla... 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 Se c'è una... Ginetta. Anche scatola, ragazzi. Quando mi pagate. Ciao! Di scatola, Dio Pai. Mamma, ragazzi. Grazie. Ciao, bella. Ciao. Ci vediamo... Ok, il bigliettino quello là, con il numero 10, non me l'hai dato ancora. Vieni, vieni. 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 Devo darlo alla mia nonna. Sì. Se zio muovete, però. In caso. Avesco muovete, poi senza scarpe. Ciao, zio. Ciao, bella. Allora. Ciao, ciao. andiamo a capo. andami... Andami. Andami per scappi che mi stai bruciando, Antonio, che mi stai bruciando, Antonio. Portati, portati ciabbono. che mi stai bruciando, Antonio. ma questa volta senti ciabbono, Dio Cunco. hai ragione. Amma, come brucia. Andami. Mamma mia. Mamma mia. Guarda. 15 Euro buttato al bel. Ivan, greco. Metti al coni. Noi, devo entrare a 15 Euro, ma sono messi... Ciao Ivan! Ciao Pumbliona! Ciao Simona! Ciao al Comune di Marano! Ciao! Come state? Perché porti questo? Perché mi asciutta il sudore! E perché mi piace! Ciao! Come state? Tu sei una comunità di scuola, no? Allo staglio! Allo staglio! Allo staglio! Allo staglio! E c'è giochi! E basta! Ando, basta! Ando, basta! Non riesce proprio a fare... Vedi, vedi, vedi! Basta! Ando, basta! Basta, basta! 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 E non è luce, non è... Perché poi, poi va... Il cagnolino... Vabbè, dai! Vieni qua! Vieni qua! Chissà che sono un muzzicasse così! Un zapportaggio! Tre minuti! Signora! Un saluto! Sì! Allora! Grande... Andore, hai capito che poi il cane ti morda qui stai? Guarda su qua Roma, guarda su qua Roma. Guarda su qua Roma, guarda. Ha capito che pesce un pesce da niente? Guarda che non bagna dietro. Giupi. Due menù. Puoi saltare il potente? Vieni qua pro te. Vieni qua pro te. Sosi, vieni? Ecco qua c'è qualche macchina. A onore del venuo, dobbiamo dire. Ma quelle lì sono, aziende atmosferiche. Sì, sì. Allora, queste sono. Scusi signore. Lì non è sporco, guardate. Lì è sporco? Sporco. Allora, noi facciamo vedere anche le cose. Non sono le stesse queste. Però, quella macchina, mi dicono che sono aziende atmosferiche. perché c'è alcune rocce. Proprio rocce. Proprio rocce. Bello. Guarda, guarda, guarda. Vedi? Mi ha fatto un video e a me non vuole essere riuscita. Vieni qua, ma. Allora, ragazzi. Noi ci vediamo a Roma all'ora 15, scusami. Vi ringrazio. Eh? Che servete? Che servete? Noi, non mi vuoi muovere. Se stai appanilando. No. Non ci serve. Tua figlia. No. Andami, hai 10 anni? No, no. Allora, ragazzi. Domani alle ore 15, sulle città. Eh no, 19. Tutti i giorni! Diciamo. Ok, bravo. Grazie.